Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Intermedia, sondaggi elaborato da Utrend per l'Agenzia Italia. C'è un calo di quasi un punto di Fratelli d'Italia, che però ha sempre il 28,8%, il PD al 20, 5 stelle fermi, Lega sale di qualcosina, Terzo Polo di qualcosina, forse dopo le notizie di oggi meno, forse Italia qualcosina in su. Inizia a calare il consenso a Giorgia Meloni oppure ci sta? Ma diciamo dopo 5-6 mesi, non presto, prestissimo. Ed è anche giusto dare a un governo che si vuole di legislatura e che sarà di legislatura tempo di attesa per un giudizio. Io posso dare la mia opinione e non la do perché, come le sai, ho lasciato la politica da 10 anni e non intendo... Però rimane cittadino, no? No, questo è impressionante e non è positivo. Un sacco di gente mi ferma e dice Ah, lei ha fatto bene. A fare che? A fare il traforo? No, lei ha fatto bene a lasciare la politica. E questo è brutto e io invece contraddico sempre quelli che dicono questo, anzi incoraggio a impegnarsi. L'esperienza ce l'ha, ci può dare una chiave di lettura. L'ho fatto per 30 anni, punto. Allora, rovesciamola. Ci dia una chiave di lettura della società. Ci dia una chiave di lettura di come noi viviamo la politica. Il mio argomento è che noi dobbiamo evitare che tutto si polarizzi al massimo. Le dico una cosa strana che sembrerà addirittura esageratamente strana. In un piccolo Stato americano, tra i 5-6 milioni di abitanti, il Wisconsin, hanno eletto un giudice della Corte Locale, la Corte Suprema. viene eletto, sono sette, ne hanno eletto uno. Lei sa quanto è costata la campagna elettorale in questo piccolo Stato americano per ereggere un giudice locale? Quanto? 40 milioni di dollari. Perché? Perché tra il candidato democratico e quello repubblicano era decisivo per sistemare i collegi, la polemica sull'aborto, eccetera, eccetera. Quindi, la mia opinione, anche per l'Italia, è che è evidente che la polarizzazione premia da identità. Però, di fronte ai problemi colossali che ha il nostro Paese, grandi, tanti, indirettamente ne parliamo stasera, forse provando a indicare qualche soluzione di interesse generale, alcune aree, secondo me, dovrebbero essere di convergenza, in qualche modo di salvezza nazionale. Cioè, è chiaro che questo è un governo politico, ed è bene che sia un governo politico, non un governo tecnico. Abbiamo avuti anche troppi. Però su alcune aree, a mio avviso, è importante che ci sia una condivisione più larga e non il trionfo della polarizzazione. Sennò, come in America... Ci costa troppo, anche materialmente. No, non solo costa. Come in America, noi ci rendiamo conto cosa significherà per l'Europa i rapporti internazionali, eccetera, se torna Trump. Tutti ne siamo consapevoli, no? E quindi è un'incidenza enorme sulla vita di tutti. A mio avviso, la saggezza richiederebbe che su alcune, io penso che il tema ecologico sia tra questi, grandi questioni ci sia una convergenza. Ecco, lei scrive un libro sul secolo verde, quindi questioni ambientali. Ci dice intanto perché il secolo verde? Perché siamo esattamente a metà. Il secolo verde, nella narrazione di questo libro, è dal 1970, quando inizia la coscienza ecologica. il 2070, la India, il più popoloso paese del mondo già oggi, dovrebbe arrivare a emissioni zero. Allora, ce la facciamo? Dipende da quello che facciamo oggi, a metà tra quando quella coscienza è iniziata, il primo Earth Day, la giornata mondiale della Terra, e quando le grandi potenze numeriche ed economiche mondiali dovranno riuscire ad azzerare, a battere le emissioni. Sembra assurdo, abbiamo in programma altre centinaia di centrali a carbone in paesi che hanno il diritto ad avere l'elettricità. Allora, prima domanda che verrà in mente a chi ci ascolta, ma ne vale la pena? È tassativo. La gente ha imparato a rendersi conto che se abbiamo siccità prolungate, carenza di prodotti alimentari, migrazioni determinate in molti casi dal clima. La prima guerra che c'è stata in Siria ha avuto un'origine dalla siccità, la nascita dell'ISIS, del terrorismo, ha avuto origine dalla siccità prolungata che ha rivoltato i contadini di un pezzo della Siria contro il governo di Assad. E lo stesso sta succedendo in tante parti del mondo. Si sciolgono i ghiacciai? Non è uno scherzo, non è una barzelletta, un fatto irreversibile. Abbiamo oggi delle conseguenze sulla salute di tutti? Vuole una valutazione geopolitica? Sì. Se l'Artico, come sta già avvenendo, diventerà navigabile per i traffici e per i commerci, cambia l'equilibrio del mondo perché per raggiungere da Rotterdam alla Corea ci vorranno 12 giorni di meno che attraverso il canale di Suez. Perché si fa prima, è molto più breve. Ma ora non si può fare, ci sono i ghiacci. I ghiacci si stanno sciogliendo inevitabilmente in pochi anni, diventa un elemento per Russia, Cina, l'Oriente, decisivo, si spostano gli equilibri del mondo. L'Africa, se diventa non più coltivabile in interi territori, o se diventa coltivabile la Russia. O se diventa coltivabile una parte certamente immensa della Siberia, attenzione, a danno del fatto che il permafrost, cioè quei territori ghiacciati, si sciolgono le superfici ghiacciate, si libera il metano, aggiungo, entrano in circolazione nuovi virus, batteri, microbi, che tanto nuovi non sono perché sono antichissimi, sono immobilizzati lì da millenni e ci dovremo fare i conti. Quindi nuove pandemie, nuove realtà, che oggi neppure consideriamo, diventano un incubo della vita di ogni giorno. Per questo bisogna fermare adesso il cambiamento climatico. Per fermare adesso servirebbe una decisione univoca. Una decisione univoca, tra l'altro, discenderebbe da una riflessione univoca. Lei fa una riflessione molto profonda, ma è da studioso, perché poi politicamente, come fai a mettere d'accordo? Lei ha nominato paesi che attualmente stanno o in guerra o quasi. Come fanno a mettersi d'accordo su un intervento strutturale così profondo a così lungagittata che non dà risultati oggi? La trappola del clima e dell'ambiente è proprio questa. Noi rischiamo di avere, come è accaduto in Francia con i gilet gialli, il cui movimento è iniziato per una piccola tassa verde sulla benzina, sui carburanti. O quello che è successo in Olanda un mese fa, dove ha stravinto il partito degli allevatori e nessuno se l'aspettava, contro la riduzione delle emissioni delle loro attività di allevamento, azoto, metano e così via, decise dal governo. Anche in Inghilterra, Farage, che è colui che ha inventato la Brexit, è oggi un po' agli angoli, ha deciso di promuovere un referendum ora contro net zero, cioè a dire zero emissioni la politica del Regno Unito. I primi sondaggi dicono che potrebbe vincere. Allora, che vuol dire? Abbiamo molti politici che si fanno portavoce del carburante. Perché è molto facile oggi dire a una persona normale come tutti noi cambiare l'auto ti costa troppo, ristrutturare la casa secondo i criteri green è una pretesa troppo complicata. Io, cosa posso fare nella mia vita di persona come tutti di fronte a fenomeni così grandi vince sicuramente oggi chi dice no, lasciamo perdere, sono pretese, sono fantasie. È anche vero che l'Europa oggi produce solo 7-8% delle emissioni, l'Italia l'1%, quindi sarà facilissimo dire non iniziamo mai. Ecco perché il mio libro analizza tutti questi fatti, c'è un miliardo di dati, un lavoro fatto per due anni raccogliendo tante informazioni, ma cerca di approdare sul punto e torno all'inizio sul quale dovremmo essere tutti d'accordo cioè la transizione, la rivoluzione verde può creare molti buoni posti di lavoro e qui non ci alleiamo con il popolo, non andiamo contro il popolo, diamo risposte al popolo. Senta, tra l'altro lei dice ha studiato due anni e a lei la sua carriera politica inizia con i temi ambientali diciamo quindi la segue da tanto eppure perché si parla di emergenza climatica. Proprio per ragioni dette perché se sommiamo i piccoli gesti che fa ognuno di noi magari ci arrabbiamo perché non so un miliardario americano ha uno yacht che da solo consuma quanto 800 persone normali nella loro vita oppure ci indigniamo perché 1700 attivisti del clima sono stati assassinati perché difendono la natura e difendono l'interesse di tutti negli ultimi dieci anni e noi dovremmo fare di loro i veri eroi del nostro tempo perché hanno messo in questione la loro stessa esistenza per salvare l'ambiente di tutti. Ma non è un problema non è un problema solo di indignazione di rabbia di mobilitazione ma di soluzioni di risposte per me la soluzione è solo quella indicare precisamente quali quanti posti di lavoro quali filiere produttive quali industrie quali ristrutturazioni produttive noi possiamo fare per dare lavoro a operai specializzati tecnici esperti digitali persone che operano nell'agricoltura nei settori più importanti alla vita del nostro paese e il mio libro fa il tentativo di indicare giuntisti tirafili nuovi mestieri di cui nessuno ha mai sentito parlare che serviranno da oggi e domani. Lei dedica il libro a una persona oggi senza volto un giovane tra i 16 e i 30 anni perché non hanno volto? Perché ho la speranza che un ragazzo di oggi guidi tutti noi e ci insegni la passione la competenza e non solo la voglia di cambiare il mondo ma la concretezza di riuscire a ottenere dei grandi risultati. Perché non abbiamo un partito verde in Italia? Almeno lo abbiamo ma non delle dimensioni che si trovano in altri posti di Europa. Abbiamo tanti esempi io prendo come esempio valido migliore i verdi tedeschi oggi sono al governo fanno innovazioni compromessi avanzamenti compromessi hanno un grande consenso vanno nelle fabbriche che convincono i lavoratori i sindacati coloro che rappresentano i grandi interessi di quel paese e hanno un consenso popolare tra i giovani quindi io dico non do ricette politiche ma dico prendiamo esempio da chi è stato bravo i verdi tedeschi hanno messo insieme fondamentalisti e moderati progetti locali grande visione fanno politica è un buon esempio di politica che dà le risposte il secolo verde Francesco Rutelli per Solferino grazie un boccalupo e un buon lavoro grazie 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 grazie